Volevo intanto ringraziare la società del Liuto per anche l'organizzazione telematica di questo evento e ringraziare i relatori Franco Pavan e Paul Bayer che hanno appunto accettato di fare i loro interventi, di effettuare i loro interventi online, anche se appunto inizialmente il convegno era previsto a Milano nella sede del Conservatorio e anche Tiziano Bagnati per il continuo confronto appunto nella ideazione e organizzazione di questo evento. Da cosa nasce questo convegno? Voglio guardare un attimo solo indietro negli anni e pensare per un attimo che negli anni, fine anni settanta, inizio anni ottanta in Italia esisteva solo una cattedra di Liuto al Conservatorio di Verona e l'insegnamento alla Scuola Civica di Milano e da allora i corsi di Liuto in Italia nei conservatori sono aumentati tra virgolette a dismisura in confronto agli inizi e oggi forse ci saranno più di una ventina tra le cattedre e i corsi e questo ha fatto sì che appunto la popolazione liutistica sia aumentata decisamente in Italia e questo abbia fatto progressivamente nascere l'esigenza di un confronto tra di noi liutisti, tra le scuole e tra gli studi che sono stati fatti musicologici e musicali, la didattica, le scoperte musicali e musicologiche e in questi ultimi anni appunto come diceva Matteo sono già stati effettuati due primi convegni a cura della società del Liuto a Venezia e a Bari sempre nella sede dei conservatori e poi appunto un terzo convegno si sarebbe dovuto effettuare a Milano già un anno fa poi naturalmente come mille altre iniziative a causa del Covid è stato sospeso, è stato rinviato a data da destinarsi per cui insieme alla società del Liuto appunto abbiamo pensato comunque di provare a proporre un primo convegno online certo online i parametri sono totalmente diversi quindi non si può pensare a 15 o 20 interventi ma in questo caso appunto abbiamo pensato solo a due primi interventi seguiti da una tavola rotonda piuttosto circoscritta per ora quindi con soltanto due argomenti che però di per sé sono piuttosto vasti uno è quasi naturalmente l'insegnamento del Liuto online perché è un argomento attuale se non addirittura scottante in questo periodo e poi e questo verrà introdotto da me e poi un altro argomento che è proprio il coordinamento dei Liutisti sia gli studenti sia i docenti quindi Liutisti italiani e questo argomento invece verrà presentato da Tiziano Bagnati per cui io inizierei subito con il primo relatore Paul Beyer che effettuerà un intervento dal titolo Chi era Vidal per quel che riguarda i vostri interventi che vi chiediamo siano effettuati alla fine dell'intervento di Paul vi chiedo se siete interessati di prenotarvi sulla chat in modo che poi io vi dia la parola di volta in volta dia la parola a chi si è prenotato scusa volevo ricordare appunto di durante la presentazione di assicurarvi di aver chiuso i microfoni per evitare di disturbare sottofondo chi sta presentando e poi se volete spegnere le telecamere riaccendere quando ci sarà la fase di dibattito insomma così si alleggerisce la banda perfetto allora io do la parola a Paul che sicuramente tutti conoscete ma voglio comunque ripresentarlo in due parole dicendo che da molti anni insegna alla scuola civica di Milano insegna a Liuto naturalmente ed è uno dei liutisti e dei concertisti che ha un'amplissima produzione discografica e anche nel corso della sua carriera ha sempre affiancato alla carriera del concertista appunto degli studi musicologici approfonditi accompagnati da pubblicazioni al riguardo sugli strumenti a corde pizzicati antichi pizzicate antichi prego Paul a te la parola che allora mi sentite buongiorno signori e signore non sono musicologo perciò chi aveva l'idea che io presento nuovi documenti su vidal mi dispiace che questo non ne avverrà allora cominciamo con otto gombosi lui negli anni trenta è emigrato come in gran parte del mondo accademico europeo è andato in america e bazzicando per le biblioteche americane si è imbattuto nella biblioteca privata piccola biblioteca privata di chicago newberry dove ha trovato un libro presso da poco completamente sconosciuto che intitolava le composizioni di messer vincenzo capirola gentiluomo bresciano curiosamente il suo fratello e non mi ricordo il nome del fratello nove forse e lui aveva lavorato già a brescia sul moretto da brescia il pittore con un certo don paolo guerini e allora otto gombosi è andato a brescia di nuovo a incontrare il sacerdote che era uno storico locale insieme hanno sono riuscito a documentare la vita di capirola non solo suo ma anche l'intero albero genealogico e insieme a questo lavoro bibliografico ha messo insieme una serie di saggi molto importanti sulla musica di capirola analisi stilistici eccetera è anche una trascrizione importantissimo critico della musica di capirola che è stato pubblicato purtroppo un mese dopo sua morte nel 1955 la biografia di capirola non parlo tanto adesso potete vedere qui ma basta dire che vincenzo capirola in realtà non aveva niente a che fare con la stesura di questo manoscritto e che io sappia non si conosce nessun manoscritto di di intavolatura autografo di vincenzo capirola invece il libro è stato steso da un suo allievo e questo allievo che pensiamo che si chiamava vitale cioè lui dice il nome vital una volta nel manoscritto e lui ha fatto un all'inizio del libro un bel indice poi sei pagine fitte di istruzione sull'arte liutistica avuto dal suo maestro e 42 pezzi di musica tutto quanto sappiamo famosamente che dico la decorato con illustrazioni con l'intento di preservare il manoscritto per la per il futuro una cosa che è successo cioè infatti questo non scritto esiste ancora ed è unico nel nel mondo del suo genere non abbiamo nient'altro simile e anche la del manoscritto di capirola supera tutti gli altri fonti musicali di artistici del tempo in certi aspetti in certi notazioni del modo di legare le note con la mano destra cioè in sinistra le corde spezzate con le mano sinistra terzo coro spezzato la prima indicazione mondiale del pianoforte eccetera eccetera allora vediamo cioè il libro di di gombosi per noi diciamo che è la nostra stella polare nella ricerca di capirola perché nessun altro ha fatto una ricerca che io sappia che supera le cose che ha detto che che ha fatto gombosi sia per la trascrizione musicale che è veramente a un livello superiore a quello che si trova ordinariamente al lavoro bibliografico e anche ai saggi sullo stile di capirola è insuperato finora allora la mia domanda è chi era vidal guardiamo cosa dice gombosi lui dice due iscriviti di vidal in due punti dal suo libro lo scriva del manoscritto ricevette lezioni di liuto da capirola e incorporò alcuni dei pezzi che gli aveva ottenuto dal suo maestro fin dall'inizio come testimoniata dalla difficoltà tecnica di alcuni brani egli imparò a suonare il liuto bene questo deve aver richiesto diversi anni il manoscritto fu ovviamente scritto in breve tempo lo scriva copiò le notazioni preesistenti in un manoscritto pianificato ordinatamente e sistematicamente ornamentato e poi più avanti nel suo libro scrive lo scriva vitale un iutista dilettante non identificato era ovviamente un pittore professionista chiaramente della scuola veneziana questo mia relazione oggi è una specie di conversazione con gombosi e voglio cioè ci sono molte cose qui da commentare voglio discutere brevemente il suo definizione di vidal come pittore professionista ma soprattutto voglio parlare della sua affermazione che vidal abbia copiato notazioni preesistenti dunque cosa sappiamo di vidal sappiamo che sapeva scrivere infatti lui dice questo libro per me è scritto e per quello che riguarda il fatto che era pittore non ci sono assolutamente nessuna prova di questo lui dice ho volesto così così nobile pittura ornarlo ma questo è molto ambiguo può anche vuol dire che ha voluto ornarlo allora l'ha andato da qualche pittore a farlo cioè non dice che lui l'ha fatto non possiamo sapere in modo né in un modo o nell'altro non ci sono prova riguardo allora dunque era allievo di capirola capirola lo ha dato pezzi facile all'inizio degli studi che ha concluso nel manoscritto perché pensava che erano buone e ancora qui vincendo c'è gombosi dice che vidal era un dilettante di liuto di questo io sono abbastanza d'accordo e da considerare che i dilettanti essere dilettante era una cosa buona nelle classi aggiati veneziana di questo periodo cioè i cortigiani per esempio si delettevano di musica e ci tenevano a non confondersi con i semplici professionisti i professionisti invece erano fin da piccoli indovini diciamo riconosciuti per loro talento e mandato a un professionista appunto da giovane a giovane età a lavorare intensivamente ma non studiavano necessariamente le arti umanistiche né la calligrafia né la pittura allora io penso che vidal potrebbe essere semplicemente stato da una famiglia agiata un corteggiano o un membro dell'alta borghesia che in quella famiglia i rampoli di quella famiglia per diventare gentiluomini dovevano prepararsi per l'alta società e dovevano imparare leggere scrivere disegnare danzare cantare tutti dovevano suonare almeno uno strumento e maneggiare la spada tutte cose che per esempio ci dice castiglioni nel suo famoso libro al corteggiano capirola potrebbe essere che capirola insegnava vidal in questo contesto cioè sappiamo che i professionisti virtuosi diluti si guadagnavano spesso la vita da vivere come istruttori dei figli di delle famiglie di mercanti o porteggiani pensiamo per esempio dowland dopo il suo ritorno dalla dannimarca in 604 vissuto in questo modo fino a 610 quando è stato assunto alla corte di giacomo anche lorenzo traccetti dopo che lui ha lasciato il cardinale luigi d'este ha guadagnato di vivere come insegnante allora è possibile che capirola ha fatto questo tipo di attività cos'altro in più sappiamo di vidal sappiamo che le coppie di musica di capirola circolavano venezia non è solo lui che li aveva infatti nell'indice del suo libro lui fa vedere che ci sono cinque altri dedicatori di musica di di ricerca e di capirola fra cui c'era un musicista professionista alvisi alceri c'era un artigiano questo spicciare lo speziale in english apposicare e almeno un membro della nobiltà veneziana zanna di del dal conterini e allora faccio una parentesi e poi bufo quando gombosi lavorava con paolo guerini a brescia dopo la guerra guerini pubblicò un piccolo articolo prima della pubblicazione di gombosi con pochi risultati della loro ricerca e lui scrive uno dei ricercari del capirola è stato scritto per la gentildonna veneziana giovanna conterini la zanna dal conterini che forse è stata la musa espiritrice dal nostro musicista comunque può essere che è stata la musa espiritrice ma non sappiamo non aveva nessuna prova neco me però contro questo un'ipotesi un po fantasagioso chiuso parentesi sappiamo anche che vidal aveva alcuni brani nel suo manoscritto in esclusiva cioè lui dice nel frontespizio cioè nel prefazione e parafraso lui dice molte delle cose che trovano che si trovano nel libro non sono state concesse dall'autore ad altri che a me infatti nell'indice sopra la musica troviamo due ricercari che dove è proprio segnalato da vidal che questa musica ce l'ha avuto solo lui dunque andiamo all'altra frase di gombosi che voglio discutere il fatto che lui dice che vidal abbia copiato da un fonte preesistente la sua musica presumibilmente dato a lui da capirola stesso ma io voglio sostenere un altro ipotesi forse capirola non ha mai scritto la sua propria musica e adesso vi spiegherò perché penso che questo può essere una possibilità prima di tutto sappiamo che i compositori di questo periodo spesso scrivevano a memoria cioè ideavano le loro pezzi a memoria abbiamo questo magnifico libro uno dei miei libri preferiti scritto dal musicologa jesse annowens che adesso è credo capo del dipartamento di musica di università di california davis e lei parla di questo fatto della memoria le dice che i musicisti devono aver avuto memoria uditive molto differenti dalla nostra e fa vari esempi di questo per esempio di cipriano d'errore c'è una lettera del seicento di luzzano luzzasco luzzaschi suo allievo che dove lui dice scritta d'errore scriveva le sue composizioni fatta prima da lui a mente come era sempre il suo costume e poi anche calcolio monteverdi c'è una lettera da lui che scrive lui scrive un motetto nella mente mia e da e da me fatto cioè ho fatto io della mente però l'esempio che ci interessa di più quello veramente interessante per il nostro scopo è il caso palestrina cioè nel 578 il duco di mantova comiscono da palestrina una serie di messe per la basilica di santa barbara a mantova e palestrina doveva consegnare una messa ogni 10 giorni però era terribilmente in ritardo allora il duca ha mandato il suo agente a roma che si chiamava a niba le capello e capello scrive al duca che palestrina non poteva scrive la musica perché era terribilmente ammalato aveva mal di testa e male agli occhi però suono solito una che via una chiria e una gloria della prima messe capello scrive erano pieni veramente di gran suavità leggiardrie vuol dire che palestrina li ha suonato completo i pezzi interi completamente composti altrimenti non sarebbe non avrebbe potuto dire una tale un tale cosa e possiamo dedurre che non palestrina non aveva scritto questa musica in intavolatura per gli uto perché aveva male cioè la malattia colpiva la sua vista doveva averle composto completamente a memoria e suonato a memoria allora teniamo questo in mente e guardiamo un altro fattore che condizionava i compositori del cinquecento quando pensavano di scrivere la loro musica e questo fattore e la carta che era una merce di lusso infatti commenta owens era una merce di valore nell'economia della stampa dei libri ad esempio il costo della carta di solito superava tutte le altre spese combinate un altro calcolo ugualia il prezzo di un quaderno 24 foglie nel 600 al salario giornaliero di un lavoratore nel cinquecento probabilmente era più caro ancora i compositori di musica vocale risparmiavano al massimo la carta infatti quando loro scrivevano loro musica utilizzavano la minima quantità di carta che indispensabile per una esecuzione della loro musica cioè se un pezzo a quattro voce lui utilizzava quattro pezzi di carta uno per voce non scriveva una partitura e cioè di solito invece cioè invece della partitura quando lui doveva cioè quando loro dovevano scrivere un passaggio un po difficile per capire cos'era usavano la tavoletta o la lavagna cancellabili infatti scrivere su carta era molto macchinoso in quel periodo perché come dice owens la matita non era ancora stata inventata quindi scrivere sulla carta significava usare penna e inchiostri si poteva cancellare solo raspando via l'inchiostro dalla superficie della carta spesso bucandola allora anche per quella era molto difficile comporre cercando di cambiare vedere varie alternative sulla carta perché non potevano sprecare la carta dunque risparmiare la carta può essere può essere stato vero anche per gli utisti allora guardiamo a caso per esempio pietro bono il più famoso gli utista del 400 non c'è una traccia di musica rimasta da lui scritto da lui lui lavorava a memoria nella tradizione improvvisatoria idem stessa cosa si può dire per il più grande gli utista del fine quattrocento lo strombottista serafino dell'aquila lui serafino da notare che serafino dell'acqua era nato solo 8 anni prima di capirola e poi pensiamo anche ad altri gli utisti famosi cioè se che sappiamo da vari fonti cinquecentesche dove non hanno lasciato una traccia iscritta baltesare germanus tedeo passi pisano e naturalmente angelo testa grossa quindi se palestrina poteva comporre il tirie e la gloria cioè musica polifonica vocale complessa interamente a memoria non è una forzatura pensare che i virtuosi luttisti non scrivevano in tavolatura e nel caso di capirola io penso che ci sono degli indizi particolari che fanno vedere questo possibilità infatti nel nell'interventura di opere vocali di vincenzo capirola di 42 pezzi del manoscritto 23 sono di interventura di opere vocali composi ha fatto il incredibile lavoro di identificare quasi tutti questi pezzi con gli originali vocali e ha accuratamente confrontati con le versioni di capirola facendo nella sua prescrizione musicale facendo le correzioni che consisteva nel cambiare qualche rara nota sbagliata ma principalmente aggiungendo le note mancanti che secondo me è un lavoro un po dubbioso perché per esempio lui spesso metteva aggiungeva il sol della prima corda mentre infatti se nello stesso accordo c'è già il sol del quarto coro che conteneva l'ottava e quel sol era già già presente allora gombosi ha capito che non c'era e doveva esserci allora l'ha aggiunto ma nell'aiuto di quell'epoca non era necessario aggiungere quelle note altre posso anche dire che molte note forse molte note che lui ha aggiunte che non hanno questo particolare è possibilissimo che capirola li ha lasciato fuori intenzionalmente perché per la fluidità di esecuzione per la facilità di suonare sui uto perciò molto di questo lavoro di gombosi era secondo me un po diciamo è bello averlo ma non non è così importante c'è un'eccezione a questa situazione e questo è l'ultimo pezzo del libro tutta pulcres qui troviamo invece un altro tipo di errore che non si si vede negli altri 22 pezzi musica in vocale proprio dei or eroi grossolani di proprio di intavolare il pezzo cioè qui abbiamo per esempio nell'originale due voci qui tre voci qui che che vidal io penso che sia vidal fa entrare in ritardo il resto gli altri voci sono veri cioè sono giusti solo che qui in questo giorno qui ha dovuto aggiustare perché non aveva trascritto questo pezzo nel modo giusto e gombosi commenta ironicamente a proposito di questo esempio il passaggio è un buon esempio della peggiore pratica di intervallatura successiva delle parti è un altro esempio si trova un po più avanti nel pezzo e qui è ancora più eclatante capirola fa entrare una voce nel suo cioè di chi va avanti per tre battute due battute interamente due battute in anticipo gli altri vostri sono giuste ma come l'altra volta alla fine ha dovuto cercare di di aggiustare in qualche modo gli altri voci però è molto curioso queste cose perché fa sì che cioè è chiaro che non accoppiato da un fonte preesistente di capirola secondo me cioè o di qualcuno perché questi errori sono non sono errori di copiatura quando si fanno un errori di copiatura si spaglia il coro o si si elimina spagliatamente una battuta oggi si aggiunge una battuta in più ma non si fanno errori di voci singolari il fatto è che le intavolature di capirola in generale sono notevolmente accurate le noti sbagliate sono pochissime e a me viene sorge la domanda che dopo aver intavolato 22 brani in per quasi impeccabili che tutto un tratto abbia potuto fare questi errori grossolani e chi chi potrebbe cioè più probabilmente aver commesso questi errori il maestro vincenzo capirola o l'allievo delettante vidal io penso che probabilmente li abbia commessa vidal piuttosto lo studente che il maestro ma in questo caso si può presumere che il brano non fu consegnato david a vidal da capirola in una forma scritta completa dunque come può essere andata possiamo ipotizzare una situazione per esempio capirola potrebbe aver fatto le sue intavolature a memoria ma potrebbe anche aver fatto le sue trascrizioni facendo una versione diplomatica nota per nota del pezzo vocale proprio dalle parti originali e poi solo dopo gli ha aggiustato aggiunto le sue elementi l'onimentazione le note sottratto una volta di qua aggiunto una nota di là lavorato sulle cadenze per creare il suo versione del pezzo e questo cioè la cosa interessante naturalmente è che questa procedura questo procedura di intavolare brani vocali esattamente quello che insegna è stato insegnato dal fronimo il maestro del omonimo libro di vincenzo capiro vincenzo galilei all'immaginario studente emazio così anche 50 anni prima di fronimo capirola potrebbe aver istruito vidal non solo nell'arte di suonare liuto ma anche nell'arte di intavolare e vidal potrebbe aver prodotto la sua versione diplomatico nota per nota facendo nell'ultimo pezzo questi errori grossolani non se non non magari non non è stato neanche accorto di questi errori e poi utilizzato la sua versione per creare la sua la sua versione alla capirola secondo gli esempi gli insegnamenti di capirola stesso aggiungendo le elementi eccetera e questo spiegherebbe assolutamente il curioso stato di questo pezzo dove troviamo ampie sezioni che sono realizzati benissimo con squisitte ornamentazione coerentemente nello stile di capirola insieme giusto apposta con i peggiori tipi di errori di trascrizione anche il fatto che era l'ultimo pezzo non so ma può essere anche significativo perché può darsi che capirola cioè che vidal ha finito le sue studi con capirola e capirola non ha avuto tempo di intervenire a correggere l'ultimo compito dunque andiamo avanti teniamo questo in mente per un attimo e andiamo avanti ad un altro indizio nel libro di vidal che potrebbe far vedere che non ha copiato una notazione preesistente e questo è proprio nella notazione stessa di vidal vidal utilizza un'intavolatura italiana conosciuta e anche utilizza i punti per la diteggiatura della mano destra già familiare dai libri di petrucci però aggiunge anche molti segni che sono unici a questo manoscritto e per la mano sinistra per esempio troviamo diversi segni per l'ornamentazione per i cori spezzati ma soprattutto quello che lui definisce il più bel segreto ed arte le indicazioni per legato e queste indicazioni sono di due tipi una lineetta diagonale questo qui e i due segnetti sopra per indicare una sezione legato perché due segni perché usa due segni diversi perché questi due segni qui indicano una sezione generalmente legato ma questo lineetta è molto più preciso perché vuol dire che si deve tenere un dito sul sol del quarto coro per l'intero passaggio anche mentre suona queste altre note perciò è un'indicazione strastra preciso non abbiamo nessun'altro fonte rinascimentale così preciso per l'indicazione della mano sinistra la cosa curiosa però è che questi segni non appaiono nelle prime sei pagine di musica i primi tre pezzi infatti lui lo scriva diciamo utilizza segni completamente diversi guardiamo il primo pezzo la villanella qui troviamo un punto sopra la tre è una lineetta diagonale io penso che questo è chiaramente il segno del legato lui deve tenere il tre cioè tenere sotto mi bemolle fino al re e la lineetta serve per separare le note che si dice che sono divisa da questo nota tenuta sempre no cioè questo appare tre o quattro volte nel pezzo più tardi nel senso nello stesso pezzo c'è la punta sopra anche una corda vuota però vuol dire comunque che questo fa si deve far sentire fino al si bemolle separato con la linea diagonale dalle altre note che seguono allora andiamo al prossimo pezzo e troviamo una cosa curiosa comincio a usare il punto sopra la nota di legatura qui c'è una legatura sulla nota intermedia senza la riga diagonale cioè adesso si sa cos'è allora basta solo il punto allora nel terzo pezzo si trova la lineetta la riga diagonale ma senza il punto infatti da questo punto in poi il libro dal terzo punto in poi non c'è più nell'intero libro una punta un punto sopra una cifra e infatti nella allora aspetta mi sono perso un po qui nella mia slide ho perso un ecco qui allora infatti non c'è più questo punto e infatti lui dice nell'introduzione del libro che faccio un parafrasi perché nella notazione non si annotano mai punti sopra la figura ma soltanto di sotto cioè lui adesso nelle prime sei pagine rimette tutti questi punti e poi dice nell'introduzione che non si deve mettere mai infatti dopo secondo pezzo non si mette mai allora andando cioè diciamo tiriamo un po la somma qui nel 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 quarto brano del libro a partire dal quarto brano del libro del settimo pagina lui comincia ad utilizzare i segni che abbiamo visti e ok i segni che abbiamo visti e e utilizza anche le rigolette di organali che come vi ho spiegato e sorge la domanda a questo punto l'originale sistema sistema di notazione usato per indicare queste note tenute era di capirola o era dell'invenzione di vidal e io propongo propendo per la seconda possibilità che non solo la musica del suo maestro lui ha voluto catturare ma anche le istruzioni su come suonare aiuto e lui ha cercato nella prima sei pagine al modo di segnare questi tenuti poi è arrivato finalmente a una soluzione magari con l'input del capirola stesso e poi queste istruzioni li ha messo nella prefazione vuol dire che la prefazione è sicuramente scritta dopo che ha scritto la musica allora questo tutto per dire che probabilmente è stato vidal a scrivere questo inventare questi segni e probabilmente è stato vidal a scrivere la musica di capirola senza un fonte preesistente perché ricordiamo gli errori del totapuch res e che questo vuol dire che può darsi che capirola in linea con quello che sappiamo dell'insegnamento anche di tutte le arti in questo periodo era fatto per imitazione non come oggi che si dà un pezzo in tavolatura all'allievo e lui va a casa a impararlo no, loro insegnavano per imitazione e probabilmente tutto è memoria ricordiamoci le parole di Owens che avevano una memoria diversa dalla nostra e può darsi che Vincenzo ha semplicemente insegnato tutta la sua musica nella tradizione orale è stata l'idea di vidal poi riconoscendo la bellezza di questa musica l'importanza di questa musica a voler utilizzare questa nuova invenzione questa intavolatura per preservare la musica di capirola per tutti i tempi e abbiamo un debito di gratitudine enorme che dobbiamo vi dare per aver fatto questa cosa però può darsi che capirola non c'entra niente allora questa è la mia relazione per finire se c'è tempo volevo far sentire appunto il pezzo di cui vi ho parlato il Totapultra S che ho registrato qualche mese fa e se volete se c'è tempo chiedo a Francesca se vuole far sentire questo altrimenti andiamo direttamente alle domande condivido intanto lo possiamo ascoltare volentieri certo siamo già in ritardo sulla tabella di marcia quindi poi si limita l'eventuale tempo per interventi dei presenti comunque si ascoltiamolo poi faremo minimi interventi alla prossima grazie Grazie a tutti. 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 No, 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 Andrea vai. Grazie a tutti. E' questo? Grazie a tutti. E lui qui lo mette per esplicito con questo punto. Sì, va bene. Ok, allora... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, 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 no. hai una foto. sull'indice per esempio? Sì, posso farlo. sul destra. no, 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 no. Yeah, no, 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 no. No, no, no. su, no, no, no. niente. c'erano, no, 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 no. magari suonando le note, cioè lì per lì, e ha memorizzato il pezzo, ma magari lui poteva memorizzarlo così. Idem per i pezzi pubblicati di Petrucci. Non è detto che ha dovuto andare da Petrucci a vedere, cioè Pulcher S è stato pubblicato nel 504 nel Motetici di Petrucci, ma non è detto che Capirola ha dovuto vederli, magari ha dovuto semplicemente, magari lavorava con altri musicisti, loro cantavano questo bellissimo pezzo che era molto, molto popolare in questo periodo, e ovviamente l'ha imparato così. Io non dico né uno né l'altro, volevo solo alzare queste possibilità, perché sicuramente è come hanno lavorato tutti gli autisti dell'epoca della storia e della musica fino a quel punto. Capirola non è nato in un nuovo mondo, è nato anche in quello vecchio. Può darsi che gli autisti, io penso che anche questo potrebbe essere vero per Petrucci, cioè Petrucci ha pubblicato Spinaccino, D'Alza, Giovanni Maria Ebreo, Bossinensis, ma come ha avuto la sua musica? Magari questi autisti non hanno scritto mai una nota di musica nella vita loro. Magari il progetto di Petrucci era di mandare il suo agente, che era un autista e sapeva scrivere bene, ad andare a questi autisti e dire, senti, suonami la tua musica, io la scrivo e pubblichiamo. Non sappiamo, perché non c'è una traccia di loro musica prima delle date di pubblicazione di Petrucci. Perciò anche questo può essere vero. Può essere vero che era normale, ordinario, che nessuno scriveva la musica in tavolatura, erano solo i ricchi, figli di papà come Vidal, forse, che aveva i soldi per prendere la carta costosa, prendere un pittore per fare i suoi disegni. Magari anche, cioè lui ha detto, è scritto per me, non ha scritto, è scritto da me. Ha scritto, questo libro è scritto per me. Magari ha fatto scrivere da qualcun altro. Non sappiamo, però è sempre interessante esplorare tutte queste idee. Però comunque ti ringrazio molto per questi commenti e mi dispiace che sono... No, 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 va bene. Ho due altri piccoli punti. Ci sono documenti scoperti da Bonnie Blackburn in Brescia, dove si trova il nome di Vincenzo Capirola, Pittore. Pittore. Ci sono... Capirola e Pittore, sì, sì. Capirola e Pittore. Sappiamo che, credo che uno dei fratelli di Capirola era Pittore. Sì, sì. Cioè, lui aveva una famiglia molto interessante. Poi il suo, diciamo, il suo guardiano, dopo la morte di Flora, sua madre, il guardiano era un orafo, un orafo. Sì, sì, sì. E allora, cioè, lui era proprio nato in questo ambiente di artisti, artigiani. Sì. L'altro punto, l'altra domanda è, hai trovato, hai trovato pezzi dove si può utilizzare il pollice per fermare il corde di basso in questo... In che senso? Cioè, fare appoggiato? Non capisco cosa vuoi dire. L'utilizzo di dare il pollice sulla mano destra, come in Lutisi di Quint, di Quint e di Quattrocento, e Hendrix, anche. Sì, infatti, io ho sempre pensato che era possibile, che si faceva, ma per me è impensabile. Sì, perciò, cioè, io ho fatto adesso un disco, cioè annuncio in anticipo, ho fatto un disco di musica di Capirola, più della metà del libro, e chiaramente io ho usato la mia bella tecnica. Bene, grazie, Paul. Ok, grazie a te.